e rieccoci finalmente in un altro video a sto giro però abbiamo un video un pochino più particolare come vi accennai tempo fa in uno short di youtube a parte il pacchetto questo un altro discorso ma è tutto collegato insieme vi dissi che appunto trovai questa fibbia ungherese e che lo stesso giorno ma pochi metri di distanza ma faccio anche vedere bene a pochi metri di distanza trovai un altro oggetto molto molto particolare e molto significativo anche tanto vi faccio vedere la fibbia così visto che ci siamo la vedete bene fibbia in ferro ungherese smaltata mia prima fibbia in assoluto e quel giorno però appunto trovai un altro oggetto particolare con cui poi adesso andremo a costruire tutto quanto il video e il motivo per il quale facciamo questo unboxing passatemi il termine e spero che vi piaccia praticamente l'oggetto in questione vediamo se riesco ad aprire questa scatoletta ok non era altro che questo stupendo kappenabzeichen austriaco ovvero il un distintivo da berretto austriaco guardate che bello se lo tiro fuori e questo è un distintivo da berretto austriaco molto piccolino vedete non si mette a fuoco qua distintivo molto piccolino con ancora il suo spillo originale tutte le scritte dietro che dopo andiamo a vedere meglio e praticamente vi spiego vi dico due cose di questo di questo distintivo praticamente è un è un distintivo appunto austro-ungarico usato su larga scala da come sappiamo bene dai soldati dei soldati austriaci e non solo ungheresi tedeschi e quant'altro e praticamente non so come venne la ripresa se sono seduto lì e praticamente questo sarebbe il kappen denominato come ubot che ubot erano i sommergibili infatti si vede qua chiaramente una U e la bandiera che la attraversa praticamente se dopo degli ingrandimenti ho fatto delle stampe su carta quindi dopo vi mostro meglio qua dietro c'è scritto flottenverein adesso piego il gancetto un attimo flottenverein tutta quanta una scritta praticamente la flottenverein era la lega navale austriaca oppure può essere anche intesa come associazione navale e questo qua era un distintivo di supporto alla marina alla marina imperiale e regia marina da guerra austriaca era stato coniato proprio per la regia marina austriaca ed era specifico appunto per i sommergibili infatti vediamo chiaramente la U di ubot poi qua abbiamo due scudi con la corona dovrebbe essere anche la corona ungherese infatti per simbolizzare anche l'alleanza tra austria e Ungheria ed era smaltato bianco e rosso ma dopo vi mostro bene è creato in bronzo smaltato purtroppo qua ne è sopravvissuta una piccolissima parte parte di questi ricavati andavano ad aiutare l'associazione vedove e orfani di guerra come tanti anche tanti altri cappen austriaci questi distintivi erano molto in voga tra i soldati dell'epoca e ora vi mostrerò una cosa molto bella aspettate che la prendo un secondo solitamente i soldati austriaci portavano i cappen sul lato destro del berretto ok questo metto qua dove non lo perdo spero ovviamente all'epoca quando trovai il mio primo cappen austriaco cos'è che feci una volta tornato a casa andai subito a vedere su internet di cosa si trattasse e fortunatamente lo trovai non solo trovai la foto del cappen diciamo adesso non so se è una replica questo se un originale ma comunque guardate guardate com'era guardate il cappen com'era all'epoca guardate che bello la bandiera si vede perfettamente i colori rosso e bianco i due scudi qui austria e ungheria penso se la croce è storta questo dovrebbe essere lo scudo ungherese guardate sarebbe stato davvero un un pezzo stupendo se si fosse trovato integro con il suo smalto ma purtroppo non è così e dietro appunto abbiamo tutta la scritta flottenverein quindi l'associazione navale la lega navale austriaca e tutta questa parolona qua che probabilmente potrebbe essere anche il la scritta del marchio della fabbrica del dell'atelier in cui è stato coniato in cui è stato fabbricato il cappen perché molti cappen se non tutti erano marchiati con delle sigle dei riferimenti al produttore questo nei libri dei cappen abzeichen viene spesso ricordato ci sono sempre le sigle ma questo qua nel libro che ho io non questa sigla qua non era presente era presente il cappen ma non la scritta del produttore ma comunque quello che volevo mostrarvi io oltre al oltre alla foto di com'era fatto bene di com'era fatto il cappen in origine una cosa molto interessante perché insieme alla foto trovai anche un'altra cosa un'altra foto questo soldato qua import in particolare il soldato in questione in questa foto abbiamo questo soldato che sarebbe un capo plotone un zug fuhrer da come ho letto sulla sulla foto è di una foto che risale al 1917 sul fronte delle dolomiti ora se andiamo a vedere bene sul suo cappen sul suo feld cappe ovvero il berretto da campo austriaco vedete cosa in mezzo tra i due bottoni forse lo vediamo meglio qua si ragazzi aveva proprio il distintivo ubot lo portava invece che sul lato destro del berretto come si era soliti fare lo portava tra i due bottoni del suo feld cappe quindi mi sono detto io perché non ricreare la foto quindi sapete già cosa c'è dentro quel pacchetto quindi adesso andiamo a aprirlo a vedere cosa c'è dentro effettivamente utilizzerò questo pezzo train chart fatto da me utilizzando una vecchia corona di forzamento ho voluto provare a ricreare un coltellino come all'epoca non l'ho mai finito l'ho solamente fatto un po' un po' la lama qua quindi mi sembrava carino usarlo per aprire un qualcosa che appartenesse al alla grande guerra o comunque ovviamente non taglierà niente quindi io impazzirò qualcosa taglia per dire taglia per modo di dire ma d'altronde anche all'epoca non sempre si poteva stare lì ad affidare tutto tutti i giorni meglio del previsto sinceramente non l'ho mai usato quindi mi son detto perché no bene il tuo lavoro l'hai fatto allora abbiamo qua innanzitutto una bella pubblicità di cucine penso provenienti dalla repubblica cieca penso di sì a vedere dal dal font della calligrafia in effetti veniva dall'impacco eccolo qua cosa sarà mai avete già indovinato di cosa si tratta eccolo qua questa è una replica che bello è stupendo questa è una replica del feldkappe austriaco non è originale perché gli originali ho visto che mi sarebbero costati quanto un polmone un rene mi sono accontentato nella replica ma da quello che vedo andiamone che bella che replica ragazzi è spettacolare qua dentro abbiamo delle sigle 62 penso sia la taglia a 91 non so 91 IR ma potrebbe essere 91 reggimento fanteria non lo intendo è di feldkappe sinceramente questa è una riproduzione quindi magari è stato creato in base a un berretto già c'è un berretto esistente in mano ai produttori di questa replica quindi sono state riportate anche i vari marchi le sigle anche sulla replica potrebbe essere del 91 reggimento fanteria 13 cp compagnia o una g non lo so se ne sapete di più basta che me lo diciate abbiamo la coccarda ah in metallo però bene effetti anche i bottoncini qua in metallo coccarda smaltata verniciata sempre in in feldgrau grigio verde abbiamo la visiera guardate che bella la visiera la visiera sembra proprio sembra a cuoio sembra fatta proprio in cuoio sì anche dall'odore sembra sembra a cuoio una replica davvero davvero ben fatta stupendo davvero stupendo tutto il bordino qua dentro cucito guardate che lavoro ragazzi cosa è sta roba qua non capisco ah ma voilà vedete quel cosino che sembra un pezzetto di cuoio effettivamente non è un bastoncino no sembra un pezzo un rimasuglio di cuoio della lavorazione magari passa all'interno dei due occhielli della coccarda per farla rimanere sul pezzo per farla rimanere come fissaggio io ero convinto che le coccarde fossero anche queste qua con i due occhielli fossero cucite sul sul berretto invece invece no non erano cucite in questo caso erano bloccate con questo metodo di fissaggio sarebbe una genialata se voi ne sapete di più scrivetelo nei commenti ve ne sarei grato davvero stupendo comunque ragazzi ah visto che ci sono piccola nota piccola curiosità non so se lo sapete ma questi due bottoni se io vado adesso a sganciarli tecnicamente attenzione attenzione che faccio danni ora no dai mi dispiacerebbe un mondo se io vado a sganciare i due bottoni io ve lo dico magari non tutti lo sanno quindi ve lo dico questo si srotola e guardate un po praticamente abbiamo il fed cup modalità invernale guardate che roba questa parte qua andava a coprire coppino e le orecchie e dopo potevi riallacciartelo davanti in modo che ti teneva al caldo anche un po il coldo la gola e quant'altro davvero stupendo eh guarda che erano l'avevano vista giusta cent'anni fa sarebbe durata un po la guerra lo sapevano bene ora rimetto tutto lo riassemblo ci metterò un secondo un attimino so già che mi farà un attimo nervosire sono già riuscito a ripiegarlo su se stesso ora devo solamente allacciare i bottoni e a dargli una sistemata ok uno l'ho allacciato ora il secondo la diamo una sistematina dalla stoffa arruffata qua ok dopo magari lo sistemo con calma più tardi due curiosità sui felt cappe una cosa molto importante è che con i felt cappe si vede proprio comunque con gli uniformi si vede il cambiamento che c'è stato anche nell'approccio vero e proprio alla guerra perché ok che molti anche ufficiali così si facevano fare i loro bel felt cappe che ufficiali lo avevano anche nero tutto bello sfarzoso decorato ma poi si cambiò drasticamente praticamente nel 1909 l'esercito austro-ungarico adottò il colore detto hatchgrau magari vi metterò anche delle foto qua nel video praticamente l'hatchgrau è un è un grigio azzurro è un uniforme che tende al grigio azzurro e quindi cambia completamente da questo grigio verde di questo felt cappe che ho in mano io ed era usato non solo come colore del berretto ma era proprio l'intera uniforme che adottò questo tipo di colorazione e quindi si trovarono artiglieri la fanteria il genio unità motorizzate e quant'altro con il colore grigio azzurro successivamente cos'è che successe con l'avvento della prima guerra mondiale si capì che il colore grigio azzurro quindi colore hatchgrau non era più adatto alle zone di battaglia boschive e montane perché era si vedeva troppo era troppo un colore acceso quindi si passò al feltgrau che è questo qua noi lo chiameremo oggi un po il grigio verde se proprio vogliamo dargli un nome e in realtà il felt grau viene descritto come un colore dalle tonalità vicina al grigio verde infatti non è né un grigio né un verde è una via di mezzo noi come ripeto oggi lo chiamiamo semplicemente grigio verde ma sono due colori completamente diversi grigio verde una roba feltgrau effettivamente è un altro tipo di colorazione mimetica e si passò a questa colorazione per essere più mimetizzati semplicemente grigio verde a differenza dell'hecce grau poteva consentirti un miglior mimetismo una miglior copertura nei movimenti e quant'altro un colore che tende al grigio azzurro capita anche voi che era inadatto per quello che è stata la prima guerra mondiale e quindi nel 15 si passò alle uniformi in feltgrau come questo quindi anche se questa foto qua è in bianco e nero noi abbiamo le prove perché la didascalia della foto diceva soldato delle dolomiti sulle dolomiti nel 1917 sicuramente questo soldato qua vestiva un uniforme feltgrau come questa qua queste zanzare dappertutto dicevo quindi soldato in questione sulle dolomiti vestivano uniforme grigio verde questa qua come il cap il felcappe qua altra cosa i soldati andavano all'assalto fino al la comparsa nel 1916 degli elmetti d'acciaio gli stahlhelm andavano all'assalto con questi con i felcappe quindi capita anche a voi quanti approcci si sono stati alla prima guerra mondiale con quante successive modifiche per rendere gli equipaggiamenti migliori e più efficaci davvero davvero incredibile quindi morale della storia perché ho sto felcappe perché vi ho parlato della fibbia ungrese perché vi ho mostrato la foto del soldato sulle dolomiti poco fa perché volevo realizzare da tempo questa cosa prendere questo distintivo che ancora il suo spillo originale e facendo una cosa molto delicata andare a metterlo tra i due bottoni nel felcappe ora sto molto delicato perché il gancetto poverino è quello che è proprio come cent'anni fa guardate che cosa stupendo abbiamo ricostruito questa foto è impressionante davvero stupendo dopo così tanto tempo sono riuscito finalmente a ricreare la fotografia di questo soldato l'unico meglio l'unico soldato in questione se lo portava tra i due bottoni del suo felcappe altrimenti sarebbero stati tutti quanti appesi cappen sul lato destro del berretto qua devo mettere un po meglio la cucitura eccolo qua in tutto il suo splendore se volete che appiccichiamo qualche cappen abzeichen qualche riproduzione magari dei distintivi che ho trovato diciamo nelle mie ricerche magari potrei acquistare le le repliche e così andiamo ad attaccare qualcuna qua sul lato destro del del felcappe fatemi sapere cosa ne pensate riguardo penso che lo andrò a fare comunque davvero stupendo sono davvero contento di come di come è venuto sono contento di aver ricreato questa foto vi aspetto nei commenti così mi dite la vostra opinione a riguardo se conoscete maggiore informazioni se se il video vi è piaciuto soprattutto se questo tipo di video vi piace registratemi un po così all'aria aperta no senza solito sfondo mimetico rosso che sia fatemi sapere perché ci terrei molto così anche io mi regolo e se è una cosa che piace magari la porto più di frequente vi lascio con questa bella immagine e che dire ragazzi io vi ringrazio se siete arrivati fino qui alla fine del video vedo che il distintivo qua sta già cercando una via di fuga però così comunque in bacheca esposto penso che con la foto accanto del soldato è davvero un bel modo per ricordarlo un bel per ricreare una cosa accaduta più di cent'anni fa anche se semplicemente un file cap e con su un distintivo attaccato ma molto carino come ricreare queste cose mi piace un sacco niente io vi aspetto nei commenti nel prossimo video ma soprattutto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate e niente buona serata a tutti quanti buona giornata dipende quando uscirà il video e grazie ancora per essere passati di qui a tutti